... ... ... Quindi cominciamo dalle donne, cominciamo dai primi tre. La terza classificata è Libera Francesca Caputo della Running Club Torre Maggiore, terza. Seconda, Sonia Quattrocchi della Downy Running. E prima, forza con l'applauso, Raffaella Filannino. E l'atletica di sfida di Barletta. Eccole qua, eccole qua, le prime tre. E salutiamo con un fragoroso applauso, forza, forza. Eccole qua, quindi lo ripeto, la prima è Raffaella Filannino, la seconda Sonia Quattrocchi e la terza Libera Francesca Caputo. Questo è il podio delle donne. Luigi De Finis premia quindi le prime tre assolute. premiata la terza, premiata la seconda, ed ecco la coppa alla prima. Ecole qua. Vi dicevo che, oltre ad essere, oltre ad essere la seconda Ren Manfredi Run, questa è la seconda edizione del Memorial Generale De Finis e questo è il premio proprio del Memorial che viene consegnato. La Manfredonia Corre ha voluto quindi inserire anche questo premio prestigioso. Eccolo lì, consegnato. Grazie. Buona notturta. Grazie a tutti